Le fonti Fast Finance, la finanza spiegata in modo semplice e veloce. Partiamo subito. Oro e argento, i due metalli preziosi da sempre più utilizzati dall'umanità, quelli che hanno contribuito alla diffusione del concetto stesso di moneta e del valore ad essa associata. Da una parte abbiamo l'argento, utilizzato per le monete di tutti i giorni, si potrebbe dire quelle di ampia circolazione, quelle sulle quali si basava l'economia di regni e imperi. Dall'altra parte abbiamo l'oro, la sostanza preziosa per eccellenza, il bene rifugio per eccellenza, molto più rara e quindi di valore, riservata alle monete il cui possesso automaticamente dava un certo status. Fondamentalmente oro e argento fanno parte da sempre di tutto ciò che sia commercio, scambio, economia e sin dalla sua creazione, finanza. Sono i due metalli preziosi più scambiati e due delle tre materie prime più scambiate insieme al petrolio. Oggi il nostro approfondimento, come leggete in sovrimpressione, però va mirato sull'argento, sul silver. L'anno 2021 sarà l'anno del silver, dell'argento? Naturalmente ci arriveremo gradualmente a dare la risposta. Mi faccio aiutare oggi da Carlo Vallotto che è collegato con noi. Carlo, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Sì, hai detto giusto, ottimo il titolo. Il 2021 sarà l'anno del silver. Ecco, volendo un po' dire, diciamo che tutti gli anni vanno bene per il silver, per i metalli preziosi in particolare, proprio perché sono dei beni rifugio, sono dei beni materiali e quindi sono assolutamente, hanno un valore intrinseco indipendentemente dal valore di mercato, dal valore del prezzo. Quindi sicuramente ci saranno dei driver particolari che adesso magari andremo ad approfondire. Però ecco, l'anno del silver in particolar modo è qualsiasi anno. Spesso Carlo, partiamo anche da questo presupposto, ci si chiede cosa sia meglio investire. Io volutamente sono partita proprio dall'oro e dall'argento, come abbiamo detto, insomma, i metalli preziosi sui quali l'attenzione si concentra maggiormente. Partiamo proprio anche da questa riflessione per fare una panoramica generale economica sul silver, perché oggi parliamo di questo, però spesso la domanda di base è quella che ho appena messo sul tavolo. Cosa guardare? Su cosa puntare? Beh, diciamo che ecco, la cosa interessante è che l'oro e l'argento sono due metalli, estremamente rari, quindi diciamo che la maggior parte dell'oro è stata, sono circa intorno a un po' meno di 200.000 tonnellate di oro estratto dalla notte dei tempi fino ad oggi, quindi tutto quello che è in circolazione è praticamente tutto l'oro estratto. L'argento dall'altra parte invece, a differenza dell'oro, non viene diciamo in qualche modo riciclato. L'argento è un metallo soprattutto che ha questo duplice aspetto, anche se l'oro non è da meno, però concentrandoci sull'argento sicuramente ecco, l'argento è un metallo determinante nel settore industriale, quindi estremamente importante in quasi tutti i settori della nostra vita, insomma quelli appunto, come hai anticipato tu, le monete, le monete di minor valore naturalmente nel corso dei secoli, però il resto diciamo, l'utilizzo dell'argento viene a dei campi vastissimi anche in medicina, nell'igienizzazione, anche nell'elettronica e quindi ha veramente tantissimi campi di utilizzo e questo ci potrebbe far pensare che se ci dovesse essere la tanto attesa ripresa economica, naturalmente ecco anche l'argento nell'utilizzo industriale, soprattutto anche ad esempio nei pannelli fotovoltaici, quindi una svolta verde nella nostra vita da qui ai prossimi anni, insomma man mano poi ci abitueremo a queste politiche green, ecco che l'argento risulterà determinante, insomma sicuramente un investimento diciamo con grandi possibilità di successo. Carlo è corretto dire che la scelta dell'investitore su oro e argento dipende molto anche dalla propensione al rischio? Beh certamente sì, dipende dalla propensione al rischio, naturalmente diciamo che tendenzialmente l'argento è un metallo un po' più volatile rispetto a loro, in quanto il mercato è circa quattro volte più piccolo rispetto a loro, l'oro è il quarto mercato, se non il terzo mercato per importanza di scambi, di volumi di scambio giornalieri al mondo, invece l'argento è un po' più piccolino e quindi può subire una maggiore volatilità giornaliera, normalmente ci sono quasi movimenti doppi, ad esempio se l'oro si muove circa dell'1%, l'argento registra movimenti tra l'1,8 e il 2,2%, quindi ecco una maggiore rischiosità, una maggiore propensione al rischio è insita nell'argento. Esatto, sostanzialmente con l'argento si può guadagnare di più ma si può anche perdere di più, non a caso l'oro è il bene rifugio per eccellenza, quindi quello che può darci anche maggiore protezione, la volatilità dunque è una delle parole chiave che distingue proprio l'oro dall'argento. Carlo tu hai già accennato qualcosa, ci sono delle curiosità anche che ruotano intorno al mondo dell'argento, al di là poi di questa panoramica economica che era doverosa, cioè l'argento noi lo ritroviamo in tantissimi oggetti anche di uso quotidiano, io ne ho portato uno ad esempio e lo mostro, è il classico specchietto, abbiamo tutti degli specchi in casa, addirittura nella borsetta, è così? L'argento davvero è ovunque? Sì, l'argento è ovunque, anche sono delle curiosità simpatiche, nel senso che tante volte magari l'utilizzo proprio che noi facciamo giornaliero di tantissimi oggetti come appunto lo specchio, tutte le mattine, tutti i giorni insomma comunque ci confrontiamo con il nostro specchio e nello specchio è, anche se magari a volte possono esserci dei materiali magari innovativi, però tendenzialmente lo specchio è formato anche con delle particelle di argento proprio perché l'argento riflette e negli specchi della nonna diciamo così, se andiamo a vederli e sono più scuri proprio perché si è ossidato l'argento in essi contenuti, le classiche macchiette insomma scure negli specchi che vediamo a casa dei nostri nonni, ecco questa è proprio la motivazione perché in essi è contenuto argento, chiaramente poi l'argento viene utilizzato ad esempio anche come antibatterico nelle piscine, nei filtri delle piscine, negli spazzolini da denti, in elettronica, nei nostri cellulari, negli smartphone, nei computer, un po' in tutto quanto insomma la nostra vita è, diciamo, nelle automobili chiaramente ad esempio una curiosità è che nelle automobili diciamo con motore a combustione viene utilizzato, vengono utilizzati circa una quindicina di, dai 15 ai 50 grammi di argento il futuro invece sarà se nelle macchine elettriche addirittura questa quantità dovrebbe addirittura raddoppiare, ecco perché appunto si parlava dell'elettrificazione quindi di questa svolta green e quindi ecco anche impattare molto sul sicuramente sul prezzo dell'argento e sulle quantità, soprattutto dobbiamo ricordare l'utilizzo nei pannelli fotovoltaici in tutto il mondo si sta cercando sempre di più questa energia rinnovabile quindi in Cina, in America, ovunque naturalmente in Europa ci sono delle politiche a favore di questa, diciamo dell'utilizzo dei pannelli fotovoltaici e anche se naturalmente con delle fluttuazioni però l'utilizzo, diciamo lo sviluppo futuro sicuramente sarà determinante in questo settore. Altro aspetto da conoscere quando parliamo del silver ma soprattutto dei due metalli preziosi per eccellenza appunto l'argento e l'oro è che questi due metalli preziosi sono confrontati continuamente l'uno con l'altro attraverso uno strumento particolare che è il rapporto gold-silver. Carlo, quali indicazioni ci suggerisce questo rapporto? Sì, il rapporto gold-silver e gold-silver ratio è sostanzialmente il rapporto che sottosta alla frazione che prende il prezzo dell'oro come valore al numeratore, al denominatore il silver. Quindi ecco il rapporto tra questi due prezzi ci dà un'indicazione, ad esempio il valore attuale intorno ai 72 punti. Ad aprile quando ci fu il primo, la prima chiusura al lockdown addirittura arrivò ai massimi storici ai 120, intorno ai 125 punti, però mediamente intorno ai 70, 80, diciamo intorno all'area valore intorno ai 60, 70 punti. Questo ci indica che cosa? Che quando il valore è più elevato, ad esempio intorno agli 80-90 conviene investire più nell'argento piuttosto che nell'oro, ovvero quante, diciamo che questo rapporto ci indica quante once di argento servono per comprarne uno d'oro. Quindi maggiore il numero, maggiore sarà la possibilità di avere un ritorno maggiore nell'argento rispetto all'oro. Ecco questo è un indicatore estremamente utilizzato dai fondi di investimento, dalle banche d'affari proprio per coloro che e soprattutto anche dalle aziende che lavorano in questo settore qua proprio per cercare di capire qual è il momento opportuno per acquistare appunto l'argento rispetto all'oro. Carlo, dunque lo accennavi poco fa però quello che interessa principalmente gli investitori, ma in generale ancora di più inserito in un contesto di crisi economica a causa del Covid, la ripresa definiamola ancora eventuale, ipotetica anche se poi necessariamente dovrà prima o poi partire lungo l'anno 2021. Che cosa potrebbe significare appunto per oro e argento? Per oro e argento diciamo che adesso siamo chiaramente tutto è aleatorio nel senso che non abbiamo delle certezze, sappiamo che in questo momento appunto siamo immersi in questa situazione pandemica piuttosto importante, la prima nella storia dell'età moderna, diciamo dei mercati finanziari non guardando quelle del passato chiaramente. Questo naturalmente porterà degli sviluppi e sicuramente potrebbe essere interessante avere entrambi i metalli perché qualora dovesse esserci un ritorno ai beni rifugio, ovvero una diminuzione dell'appetito a rischio, quindi una diminuzione dei corsi azionari, ecco che l'oro farebbe la sua parte, nel senso ci proteggerebbe, oltre al fatto che è attesa anche un'inflazione in aumento rispetto a quella che è l'inflazione sonnacchiosa che abbiamo visto negli ultimi 5-6 anni, quindi ecco un aumento dell'inflazione potrebbe portare beneficio ad entrambi i metalli, quindi ecco che è abbastanza completo come investimento, anche perché dall'altra parte se abbiamo il bene rifugio per eccellenza che è l'oro, dall'altra parte abbiamo l'argento che è un metallo con caratteristiche spiccatamente industriali, addirittura oltre il 50% del suo utilizzo e quindi se dovesse esserci invece una ripresa, una forte ripresa economica, naturalmente l'argento ne beneficerebbe rispetto all'oro e quindi ecco che sarebbe un investimento abbastanza completo, naturalmente poi la diversificazione di portafoglio è il must di ogni investimento, però già con questi due strumenti si potrebbe ottenere un buon investimento. Carlo naturalmente per i portafogli singoli e per la diversificazione soprattutto rimandiamo alla consulenza finanziaria, questo lo diciamo sempre, però chiaramente le indicazioni devono arrivare anche prendendo spunto da quella che è stata la storia in questo caso di oro e l'argento, sia da un punto di vista più astratto ma soprattutto economico, appunto ripercorrendo quelle che sono state le performance dei due metalli preziosi come di qualsiasi altro asset, naturalmente nel corso degli anni anche quando eventi esogeni si sono messi in mezzo e hanno modificato il corso, ma questo vale un po' per tutto Carlo, quindi cenni storici ed economici servono sempre? Assolutamente sì, poi ad esempio una curiosità, un cenno storico per chi studia l'argento è la speculazione dei fratelli Ant, quella quando loro, appunto ritornando molto velocemente al fattore che questo è un mercato estremamente piccolo, questi due fratelli molto furbescamente diciamo così accapparrarono intorno agli anni 70 tutto l'argento in circolazione e ad un certo punto detenevano in mano il mercato, chiaramente gli organi di controllo economico fecero in modo che in qualche modo questa bolla scoppiasse e se da una parte avevano guadagnato tantissimo, ad un certo punto perso praticamente tutto questo, il picco del prezzo dell'argento è spiegato in questa storia qui, reale tra le altre cose. Grazie Carlo Vallotto per avermi e averci aiutati a capire di più sul Silver, sarà l'anno il 2021 dell'argento, noi qualcosa vi abbiamo detto poi lo scopriremo strada facendo, grazie ancora Carlo Vallotto. Grazie a voi, un saluto a tutti. E questa è Fast Finance naturalmente sulle fonti tv, la finanza spiegata in modo semplice, alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.